Ciao a tutti ragazzi bentornati da Alex 54 se io ho abbassato la telecamera allora oggi siamo qui perché volevo dirvi come si può avere un macbook nei miei casi perché potrebbe essere anche un qualunque altro modello senza macbook per chi non conosce il macbook è un pc della apple e ne stanno facendo vari modelli come quello 2020 macbook air 2020 per oggi andremo a creare il macbook ma senza macbook ora vi farò vedere un attimo un attimo un attimo allora ragazzi ecco come si può avere un macbook allora vi serve un ipad ecco quello che vi ho fatto vedere un po di tempo fa prima mette così perché così alla visuale buona allora come ho fatto vedere un po di tempo fa il ipad ho fatto non ho fatto la recensione non fare in questi giorni anche come farò la recensione del mi band la recensione di alexa che sta lì allora poi vi serve una tastiera bluetooth ve l'ho fatto aprire vedere e poi vi serve una base per il tablet ipad sarebbe vabbè io c'ho questa qua della mba che ho trovato nell'uovo di pasca che uno l'ho aperto però ne ho un altro da aprire la seconda forse lo farò vedere sul canale si può trovare sia questo che è la base per il proprio per il cellulare per ipad anche per i tablet eccetera e si può anche trovare anche il diciamo lo speaker filmato in biai si trova nell'uovo di pasqua della kinder e biai ne parlerò nel prossimo video quindi queste cose vi servono per creare il vostro ipad dal vostro ipad creerete un macbook che sarebbe in queste condizioni macbook higher quindi higher sono quelli piccoli da 13 13 pollici e la è proprio per favorire questa cosa che sta andando molto di moto perché i macbook costano molto e quindi intorno sono intorno ai mille euro invece i ipad vanno sui 500 600 euro quindi costano veramente di meno poi con questo qua che costa 14 euro precisamente veramente puoi creare il macbook ora vi farò vedere allora questo è il mio macbook ovviamente è l'ipad appoggiato sul portacellulare con la tastiera bluetooth questo si può veramente creare questa è una mia creazione molti l'hanno fatto c'è anche un video di andrea galeazzi se volete andatelo a vedere perché è quello che io cioè è il mio idola nell'elettronica perché veramente spiega le cose veramente bene fa un video al giorno spiega molte cose elettronica quindi se vi interessa l'elettroga andatelo a seguire ha quasi un milione di iscritti totalmente cosa diversa da noi quindi questo è il mio macbook con la tastiera bluetooth in questo video vi ho fatto vedere come si può creare un macbook ma senza macbook credo che il video finisce qui iscrivetevi al canale e mettete la campagna appena ho perduto nessun altro video ci vediamo domani ci vediamo ancora pomeriggio perché ne farò quello stasera quindi ci vediamo stasera in un prossimo video ciao 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 ciao